All'indomani della promozione in Serie A, in Casa Giallazzurra si avverte già aria di calciomercato tra arrivi ma soprattutto partenze, perché molti dei calciatori al momento facenti parte della Rosa Canarina iniziano a fare gol altrove, suscitando dunque l'interesse di molti club pronti ad investire non poco su alcuni dei talenti più pregiati dello scacchiere di Moreno Longo. A cominciare non potrebbe essere altrimenti da Camillo Ciano, l'ex Cesena è finito da giorni nel mirino del Cagliari di Tommaso Giulini. Non si tratta ancora di una vera e propria trattativa ma una manifestazione di interesse che presto potrebbe portare a colloqui più approfonditi tra le parti in causa. Altro possibile interesse di mercato sarebbe Matteo Ciofani, destinazione Lecce, neopromosso in Serie Cadetta. Il calciador originario di Avezzano sarebbe un profilo perfetto per la squadra di Liverani, soprattutto in virtù del fatto che trasferendosi manterrebbe il posto da titolare, così non propriamente sicuro invece nel caso decidesse di rimanere in ciociaria. Si parla di Terzini ed è impossibile non citare anche Roberto Crivello. Il calciatore di Mondello, secondo quanto raccolto da alcune fonti vicino all'ambiente abruzzese, sarebbe un'idea per il Pescara di Pillon. In attacco invece, e questo si sapeva, Nicola Citro stuzzica la fantasia dell'Avellino. Il calciatore ex Trapani potrebbe anche essere girato in pressi di Nirpinia.